Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo ritornati su Minecraft dopo tantissimo tempo Ragazzi l'avevo abbandonato un po' perchè ho visto che non era molto seguito Adesso ci riprovo e questa volta ci fa compagnia il grande Simux 1988 Saluta! Bella a tutti! Ciao! Ok lui che ci accompagna sia su GTA e ci accompagnerà anche su Minecraft Visto che lui la mattina può giocare e chiaramente faremo il delirio E in questa puntata che non mi ricordo il numero di qual era Vi faremo vedere un po' le nostre costruzioni, il mio mondo, com'è cambiato dai vecchi tempi E Simux con questa faccia che tiene ci farà Bella stai raffi La faccia da schiaffi sembra Con la spada Vi farà illustrare anche lui comunque la sua casa Allora ragazzi partiamo da casa mia E ragazzi prima di iniziare il video volevo dire Di iscrivervi al canale di Virgo Games Come sempre E di Fox Master che Aspetta che c'è uno zombie che ho visto da quelle parti Ma quella sta facendo il bagno in piscina, lascialo stare Eh chi se ne frega del bagno in piscina, sporca, sporca Eh, so caduto io Come sempre È morto Ok ragazzi partiamo da casa mia, vi farò vedere tutta casa mia E poi chiaramente tutte le altre cose Questa qua è casa mia ragazzi Qui ci sono le due torrette L'avevo fatta anche vedere nello scorso episodio Guardate ragazzi qua c'è la targhetta Possiamo entrare, ho messo tutta la lava per recintare dei mostri Simux tu che ne pensi di casa mia? Eh, l'ho già visto tutta già l'altra volta Bella come è casa Anche agli interni Eh, è per me no Bella questa proprio È per me no Ragazzi qua c'è il maxi schermo Vi farò vedere la cucina Che è formata da tavoli da lavoro e forni Ragazzi qua c'è Strana come cucina però va bene lo stesso Eh ragazzi Simux ci cucinerà adesso un bel primo Sì vabbè non sono un grande cuoco Però cercherò di fare qualcosa Ragazzi qui c'è una tavolata enorme Per non so chi si siederà qui Eh ragazzi saliamo sopra Qua ho fatto questi pilastri molto carini E qua c'è diciamo il dormitorio Qua ci sono dei divanetti E chiaramente tutti i letti per dormire Non so però chi farò dormire qui Pagheranno chiaramente la tassa per dormire E ragazzi qui invece si va nella torre sul terrazzo Non vi faccio vedere adesso perché sono dure per salire E qua c'è il meraviglioso bancone Con vista Che cazzino di porte Ok Con vista diciamo paese Molto carino E c'è sempre la faccia di Simux Che stia sempre di fronte a me Ok Ragazzi passiamo Alla casa di Simux adesso Che ha costruito ieri insieme a me Io sono all'esterno già Lo sto raggiungendo al volo io Ok Dov'è Simux? Ah ok Sono in volo Perfetto C'è un ragno in casa mia Che ci fa un ragno in casa mia? Devi pulire Devi pulire Ragazzi questa è casa di Simux Bellissima Ha fatto tre piani con il terrazzino Chiaramente deve ancora allestire tutto dentro Ah beh qualcosa c'è già Però se volete già vederla Vedete pure Adesso entriamo Vi farò vedere Tutta fatta con i blocchi d'oro È molto carina veramente Proprio a fianco alla piscina Chiaramente noi adesso ci entreremo Guardazzi qua è tutto vuoto Chiaramente adesso dirà tutto Metterà quadri eccetera Eh beh Non c'è una battaglieri Chiedetemi tempo Sì Qua c'è Zunavini E qua ragazzi c'è il televisura Il Dolby Surround Con tre casse Tre casse all'altro lato Con divanetto Bellissimo Eh qua ci stava E qua su ci faccio la camera da letto Adesso c'è solamente un letto Ma devo ancora arreddare tutto quanto Certo qua ci farò la camera da letto Qua c'è diciamo quella cupola E il terassino ragazzi Molto carino Con vista piscina Vista mare Vista tutto Vista che è casa di Alex Tutto qua c'è tutto Ragazzi poi vedrete Chiaramente quelle case sospese Sarebbero case di altri amici E ragazzi non c'è più la casa di una persona lì Perché sono successe delle cose E ho distrutto tutto Adesso non voglio parlarne Poi ragazzi qua ci sono le piscine Le due piscine E adesso vi farò vedere anche la casa sull'albero Che possiamo andarci da qui Ragazzi qui c'è la casa sull'albero Possiamo salire proprio in modo tradizionale Proprio arrampicandoci sulle iane E qua ci sono le botole Che sembrano cose di aria condizionata Oddio si è baggato Simux insieme Ci siamo liberati E ragazzi qua c'è la casa sull'albero Mi sto baggando Ecco fatto Ragazzi qui c'è la vista su casa di Simux Casa mia e le altre case E il casino Camera da letto chiaramente Di casa altrui qua Praticamente casa altrui Certamente Possiamo riscendere In vicesalgo Ragazzi andremo in una specie di tempio Diciamo che ho creato Che poi non è un tempio Perché adesso vedete l'interno Guardate È un tempo Un tempio Eh Questo ci sta ragazzi Ragazzi arriviamo sui 30-35 like Per il prossimo episodio Con Simux magari Vi farò vedere l'interno Ragazzi qui ci sono questi fuochi Per dare un po' di luce Ragazzi dentro E il delirio Ho fatto queste salette qui Con i tavolini Quadri Qua c'è una camera da letto Se vedrete C'è un Ci sono tre letti Orologi Quadri E c'è la vista sulla casa Sull'albero ragazzi Poi usciamo C'è qua il tavolino E ragazzi qui c'è l'altro impianto Dolby Surround Creato da Simux Il nostro ingegnere Ormai mi sono impegnato Con tanto amore A fare sta cosa Certamente Qua c'è il divanetto E poi qua c'è un'altra saletta Per Diciamo un angolo Per Per il divertimento Certo Abbiamo i quadri Così E ragazzi qui c'è una piccola libreria Alla stia Harry Potter Con Col cammino qua dietro Che mi sembra Il cammino sospeso Voi ragazzi Volete un cammino sospeso Chiamate Simux Con strutture Che ve lo metterà Ragazzi possiamo uscire E vi farò vedere Le altre strutture Ragazzi adesso ci dirigeremo Nella torre Che avete visto prima Forse Ma non vi ho detto niente C'è ragazzi Una torre enorme Che ho fatto Eccoci qui A proposito Dove stanno queste due case Una e due Beh Creeremo diciamo Un piccolo cinema Magari Nelle prossime puntate Cerceremo di Infatti Nelle prossime puntate Costruiremo un cinema Sì Qualche saletta divertimento Molto carina Ragazzi Questa è una torre enorme Voi vi chiederete Ma cosa c'è dentro Perché è così alta Ho creato io da solo Infatti ci ho messo Un tre ore più o meno Noi ci entriamo E ragazzi Dentro c'è una ferrovia Che vi porterà Sopra Tutte le pareti Di un altro colore Ragazzi adesso Saliamo volando E vi farò vedere Sopra La vista Che è spettacolare Poi ci passano anche Le nuvore da dentro È una cosa Fichissima Infatti Questa torre Sì Vi faccio vedere Ragazzi adesso Noi siamo sulla torre Guardate C'è la vista Su tutto Casa di Simux Casa mia Le altre case Tutto veramente Ragazzi Poi qua sopra C'è questa antenna Che praticamente Arriva al limite Dell'area di volo Di Minecraft Di Minecraft Non ve la faccio vedere Perché se no Adesso stiamo un quarto Dura per arrivare sopra Ce n'è buone tantissime Infatti Ok Ragazzi scendiamo giù Vi faccio vedere Una casa che ho creato Nel bosco Davvero Davvero Il delirio Veramente Simux ci raggiunge Eccolo qui Ecco qua Che mi cade in testa Ragazzi lì c'è una ferrovia Che parte da casa mia Che arriva La montagna di lava Niente di speciale Non ve la faccio vedere Perché comunque Non è niente di speciale E qua ragazzi Ci sono questi punti Che ho creato io Ho messo tutti i pilastri Molto carini E ragazzi Proseguiamo Vi farò vedere Diciamo Questa casa nel bosco Ho fatto tutto io Questo passaggio Per avere delle indicazioni Simux che fa Michael Schumacher Sì Sì È arrivato prima di te Sì Ho visto Ragazzi Qui ho fatto questo Sotto passaggio Che è tutto scavato Nella montagna Che esce Dentro questa casa Sì 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 Ragazzi Qui c'è Diciamo Questo piccolo lago E Qua ci ho messo i mattoni E qua ragazzi C'è una piscina Coperta e scoperta Qua ho messo i vetri Per fare la piscina coperta E La piscina Eccola qui Molto carina Con le luci Ragazzi Questa è la casa Molto bella Che ho modificato Prima era più brutta Possiamo entrare Simux Spieghi le poster Perché entri per ultimo Era in costruzione Era in costruzione Ok Entriamo Ragazzi Vi faccio vedere Qui ho restito un po' Ci ho messo quadri A go go Molto carina Molto semplice Sempre quadri Ragazzi Non vi faccio vedere Questa zona Perché Questa t Perché è in costruzione Ci metteremo Una vineria Qua sotto Un'enoteca Praticamente Infatti Stiamo già costruendo Quindi in costruzione Poi ragazzi Qua ho messo il cammino Chiaramente Lasciamo stare È la confusione dei cammini Troppi cammini Troppi cammini Le tendine Troppi cammini in giro E qua ragazzi C'è una scalinata enorme Qua c'è la camera da letto Letto Cassaforte Casse E bla 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 Ti vengo a rubare adesso Ti vengo a rubare Verrà a rubare Simux Sicuramente Ti chiudo dentro Ecco Simux Sì 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 Intanto ti seguo adesso Ok Qua ci sono le scalinate Orologi Quadri Ragazzi Qui c'è un piccolo Ma non è una casa Un museo questo Un museo sì Ma ragazzi C'è un piccolo terrazzino E ci sono due gattini Due leopardi Che cos'è che sono Che non se ne vanno Cioè sono stati sempre qui Non se ne sono mai andati Molto carini E c'è la vista Sulla foresta E su questa struttura enorme Che adesso vi farò vedere Ragazzi Non vi immaginerete Non vi immaginerete mai Cosa c'è dentro Simux Possiamo andare Alle terme Chiamiamole così Sì sì Possiamo dire piscine terme Una cosa del genere Bellissimo Qua c'è il televisore Dolby Surround In HD E Qui c'è un'altra vetrata Con vista a bosco Molto carina Vedete ragazzi Ogni tanto Staliamo a potare l'erba Ieri c'erano le iane Che carino Sì infatti Ci siamo divertiti A potare Tutto questa zona A potare Qua ci sono corridoi Con quadri E adesso ragazzi Viene il bello Ci sono le terme Bellissime Ed ecco ragazzi Le terme Piscine Rilassamento Vario Ragazzi Qui c'è anche Una cascata Che vi farò vedere Molto carina Qua c'è un piccolo Terrazzino Per tipo Zona fumatori Molto carino Con vista a foresta Lì c'è un piccolo laghetto Una sigaretta Allora aspetta un attimo Ciao Ci vediamo dopo Ragazzi 30 like Per questa scena Si Non vuole essere disturbato Ragazzi Scendiamo giù Quando si fuma Non vuole essere disturbato Scendiamo giù ragazzi Ed ecco ragazzi La cascata Bellissima Che scende Con le terme Divanetti Quadri Qua ci ho fatto Le colonne E' tutt'altro qui Si Pilastri Ho fatto il casino Pilastri Luci Quadri Ancora sto quadro Qui della stufa Si Quello deve stare Non in casa Perché se no Non siamo caldi Sono le terme Infatti Ecco ragazzi L'altra cascata Veramente è bella Vista vetri Tutto ragazzi Perché ho detto Vista vetri Vista foresta Ah ecco Mi sembrava strano Quindi Voi vedete i vetri Ma non la foresta Ragazzi Vi ho fatto vedere Tutto il mio mondo Con Simux Chiaramente arriveranno Altre puntate Ragazzi Se volete altri video Me lo dite nei commenti Di Minecraft Chiaramente adesso Ci sarà Simux La mattina Veramente lo ringrazio Per la partecipazione Ai miei video Arriverà presto Il terzo episodio Dei devastami giocatori Siamo arrivati A 50 like Di nuovo Veramente Il casino Bellissimo Questo episodio Sì ma Possiamo dire Possiamo dire Che sono arrivati Più o meno A 35-40 like In meno di 24 ore Certo In due giorni 50 like raggiunti subito Cioè veramente Infatti Quindi ragazzi Vi consiglio Di lasciare un like A questo video Magari arriviamo Come ho detto prima A 30 like 35 like Lasciate un like Sulla pagina facebook Iscrivetevi al canale Ovviamente Condividete il video Sui social networks Quindi ragazzi Da questo video è tutto Da Simux è tutto Saluta Bella Ok Noi ci vediamo Al prossimissimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti